Partita a calcetto padri contro figli. Sembrerebbe un banale momento di sport in famiglia se i padri non fossero alcuni dei detenuti del carcere pescaresi di San Donato e i figli i bambini a cui è stata concessa questa occasione per riabbracciare il proprio genitore. E il progetto partita con papà, ormai giunto alla quinta edizione, promosso dall'associazione Bimbi senza sbarre in collaborazione con il Telefono Azzurro e la Croce Rossa italiana di Pescara. In genere si pensa ai detenuti ma non alle loro famiglie, ai bambini che vengono a fare colloquio. Il fatto che oggi possano trovarsi in uno spazio esterno a giocare e tifare per il loro papà mi sembra veramente bellissimo. Diciamo che la partecipazione è volontaria, abbiamo selezionato i detenuti che hanno già i presupposti normativi per poter uscire, quindi hanno già fatto un bel percorso di revisione critica del loro passato. E abbiamo coinvolto le famiglie, ci sono dei volontari che ci aiutano. La situazione nelle prigioni italiane è drammatica e svela tutta la meschinità del sistema carcerario. Nel 2019 nelle patrie galere sono morti 123 prigionieri, di cui 46 si sono tolti la vita a causa delle condizioni detentive a cui erano costretti. In questo desolante scenario la casa circondariale di Pescara non fa eccezione. I dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria svelano che qui è rinchiuso un numero di persone che è quasi doppio a quello della capienza stabilita per questa struttura. Ad ottobre un detenuto tossicodipendente, da poche ore dietro le sbarre, in preda a una crisi d'astinenza, ha manifestato tutto il suo disagio devastando la cella in cui era posto. Questa mattina però l'atmosfera era del tutto diversa. Sui volti dei carcerati vi erano ampi sorrisi ed era possibile scorgere anche un po' di commozione dietro gli abbracci alle loro famiglie. Un momento di gioco spensierato, un'occasione per spezzare la routine a cui debbono sottostare, in attesa di riconquistarsi quella libertà che è stata loro negata.